Portare l'Aquila sul petto è qualcosa di unico. Oggi la stiamo indossando tutti. Chi in campo, chi in panchina, chi in tribuna, chi sugli spalti, chi a casa, a lavoro o in strada. Oggi siamo tutti fratelli e lottiamo per lo stesso traguardo. Alzare al cielo la coppia più sentita degli ultimi anni. Forse di sempre. Stringiamoci la mano. Uno sguardo e un pensiero verso le persone care. Accarezziamo la nostra Aquila. Mai così vicino al cuore. Siamo pronti. Siamo alla Lazio. Dallo Stadio Olimpico di Roma benvenuti a Lazio versus seconda squadra della capitale. Un saluto bianco celeste da Luigi Sinibaldi. Paolo Poghesci. Prendere o lasciare Lazio e Roma. Derby finale di Team Cup. Gara secca. Stadio Olimpico capitolino. Che vince ha in mano il passaporto europeo. Non è una questione di supremazia. Oggi ci si gioca quasi tutto. Difficile mantenere i repressi e le emozioni. Impossibile in una location così. Con l'atmosfera da brividi come quella che stiamo vivendo. Non è uno sforzo. Ma una missione. L'orgoglio. Unione di gruppo. Il sacrificio. Conta vincere. Non conta scegliere se ridere o piangere. Perché il riso può essere amaro. E le lacrime possono essere intrise di gioia. Here we are born to be kings. We're the princes of the universe. Precate di superare Bradley. Va ancora a Edy. Per Hernanes. Poi Lulic. Per caricare il destro. Ma Lulic lo bozza. Poi close. E il pallone che finisce fuori. Marchigno. Erra Totti. Attenzione che prova il led destro. Totti Marchetti. Non ha problemi nella presa. Balsaletti. Poi ancora. Pallo lungo verso Marchigno. Pallone dentro. Attenzione adesso alla mela. Lo scambio. Bradley. Nare di rigore. Ancora Bradley. Pallone che finisce fuori. Con Radu. Va alla cross. Le parti riclose. Lopos. E il pallone finisce ancora lì. Ancora close. Marchignos. Fa tutto da solo Marchignos. Andrà al cross. Attenzione al cross. Dentro e destro. E il pallone sul fondo. Marchigno. Prova a pagare il campo con la palla al piede. Ancora Marchigno. Deve fermarlo Nazzi. Ancora Marchigno. Con il destro. Marchetti. Mauri. Per Candreva. Pallone dentro. Con Mauri cerchiamo anche di maggiormente la profondità. Assolutamente. In questo caso anche la porta Lulic. Qualche modo. Candreva in copertura. Tocco corto. Marchigno ancora per Totti. Che carica il destro. con la fissa fuori. Dentro da Hernanias. Poi il sinistro. La palla verso close. Stava quasi per diventare un assist. Tanto Lulic va via con un gran numero. A Marchignos. A campo Lulic. Si avanza. Ancora. La palla a sinistra. Dentro verso Mauri. Che si cordina con il destro. Mauri close. Marchigno. Marchigno. Lascia scolare il pallone. Conco poi biava. Su destro. Marchetti tiene anche questa. La palla a Mauri. Dentro verso Candreva. Dentro Lopuz. Alla palla per il serrate. Ha stelzato Lulic. Dura c'è. Sera Lulic. Ma il segretto l'esco. Sera il passato. 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 Particolare. Intanto pallone lungo. Dentro. La palla filtra. Marchetti la tiene. Marchetti la tiene. Marchetti la tiene. La palla ha baciato la traversa. La palla ha baciato la traversa. Rietornata in campo. Ancora Stefano. La palla resta lì. Stefano. E la palla viene ancora iscritta da Lopuz. E' finita. E' finita. La Lazio vince la sua sesta. Coppa Italia della sua storia. La braccia in tribuna. La Lazio ha vinto. La supremazia resta. E la Lazio. Godiamoci questa festa. Sarà una lunga notte Paolo.